Appena inaugurato a Rimini la tredicesima edizione dell'Erimini Wellness, la fiera dedicata non soltanto al fitness ma anche al benessere, ai corretti stili di vita e allo sport. 268.000 il numero da parte, ovvero quello dei visitatori della precedente edizione. All'inaugurazione era presente anche la campionessa olimpica di discesa libera di Pyongyang 2018, Sofia Goggia. Che gratificazione è stata aver raggiunto gli obiettivi agonistici che hai raggiunto? Beh, è una soddisfazione enorme perché è la realizzazione di alcuni sogni che nutri e che coltivi sin da quando sei bimbo, quindi la soddisfazione è stata immensa, realizzato un sogno, si continua a sognare e quindi ci si muove sempre verso nuovi obiettivi. E che consiglio daresti a chi magari ancora non ci crede abbastanza nelle proprie capacità? Bisogna trovare un proprio equilibrio tra quelle che sono le aspirazioni, le ambizioni e la realtà delle cose perché non puoi essere un visionario, ovvero aspirare a qualcosa ma non muoverti per essa. Il 2018 dovrebbe essere l'anno in cui il percorso di avvicinamento al tema della quotazione dovrebbe concludersi e naturalmente le conclusioni del conto economico di fine d'anno saranno molto importanti anche da questo punto di vista. Quindi consapevolezza delle difficoltà ma non indugiamo minimamente su alcuni aspetti di pessimismo che potrebbero esserci consigliati da qualcuno.